Ciao a tutti, puntatina velocissima quest'oggi, post 8 dicembre, post immacolata, novità arrivate a carrettate, facciamo una panoramica un po' di tutto direi. Cominciamo con questo quarto volume di Flash Gordon, Valkyr la regina delle tempeste per la Cosmo editoriale, volume cartonatissimo, bellissimo, gigantissimo, che andiamo a posare qua dietro. Poi, riflessi permettendo, abbiamo la ristampa del numero 1 di Star Wars, la prima uscita a solo 1,99€, come vedete lo strillo in copertina. E poi ci buttiamo su Pick Up Giant numero 14, salterei su un manga, eccolo qua, della Planet Manga, il terzo di quattro di Vivo nella tua ombra, per proseguire con il terzo e attesissimo numero di Bestiarius, del bravissimo Masasumi Kakizaki, poi il tredicesimo numero di Bloodled, e a seguire il quarto di Sister Devil, anche questa è una, diciamo, novità, tra virgolette, che ha riscosso un notevole, notevole successo. Poi vediamo il retro, il back di, eccolo qua, Tokyo Esp, dodicesimo numero, e poi qui il must have, il quinto numero di Before the Fall Day, l'attacco dei giganti. Poi un altro paio di titoli per la Panini Planet Manga, abbiamo l'usuraio numero 14, e poi le storie inedite con l'ottavo numero di Kingdom Hearts, seconda parte. Vedete un manga sotto, ma io mi sposto di qua, c'è Star Wars in quarta di copertina, ma in realtà andiamo a vedere, è Star Wars l'impero a pezzi, la seconda parte di due, che dovrebbe fungere da prologo al settimo episodio, sì, di Star Wars, che ormai è imminente nelle nostre sale. Centoquarantesimo numero per Spawn, e sesto per Shield, cover super 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 rossa. Poi, di seguito, abbiamo il trentesimo numero di Avengers, ovvero il quarantacinquesimo della colonna I Vendicatori, e poi il 201 di Thor, che corrisponde all'ottavo dell'All New Marvel Now. Amazing Spider-Man è arrivato al numero 640, che corrisponde al numero 26 di Amazing Spider-Man, seguito dal numero 321 di Wolverine, ovvero il numero 9 di Wolverines. Poi, andiamo a farci quattro risate con Star Wars Episodio 3, con la scritta Embossed, perché esce fuori leggermente in rilievo, e attendiamo anche il cofanetto, vero Gianni, se non sbaglio? Prossima settimana c'è il cofanettone, poi un volume carinissimo della Renoir, abbiamo Match, guardate che simpatici questi disegni, veramente gradevolissimi e divertenti, pochi ballon, ma insomma, le gesta di questo tennista dicono tutto, abbiamo Match, per l'autore si chiama Gregory Panaccione, probabilmente italo-americano, italo-francese. Spongebob numero 20, e dietro di lui la vedova nera numero 8, sotto invece questa sarebbe la variant di Secret Wars numero 1, finalmente l'attesa è finita, e poi andremo a vedere anche la cover normal, sotto abbiamo invece Master Keaton numero 13 Remastered, eccolo qui, interessante, sarebbe il tredicesimo volume, se non erro, correggetemi, Cinque Allegri Ragazzi Morti numero 8 per Davide Toffolo, eccolo qua invece la normal di Secret Wars, 1 di 9, poi Ant-Man giunge al numero 3, mentre di seguito abbiamo Max Brooks, che ci presenta Extinction Parade, illustrato da Raulo Caceres, eccolo qua, la parata degli estinti. Vediamo un po' all'interno, diciamo, materiale, per chi adora un certo genere abbastanza, come dire, tosto, tosto, definiamolo tosto. Poi Iron Man, Superior Iron Man, che procede speditamente la sua marcia, forse uno degli spillati che continua a vendere di più in assoluto, sarebbe il numero 32 della collana Iron Man e il numero 7 dell'All New Marvel Now. Dietro di lui Incredibili Avengers numero 4, ovvero il numero 28 della collana. Poi abbiamo per la storina, la prima stagione di DK, il numero 2 di 4 per questa miniserie. Sotto di lui Don Camillo a fumetti, la volante, con una cover di Claudio Villa. E Adam Wilde per la Sergio Bonelli, il numero è il 15, collana che si sa già che concluderà la sua corsa al numero 26. Poi Cable & Apple numero 9, robe di famiglia. Volumozzo, volumozzo, che è seguito dal cartonato degli Avengers, numero 3 sarebbe preludio a Infinity. Sotto di esso abbiamo Avengers Deluxe, presenta, eccolo qui, Secret Avengers, il numero 12. Un altro paio di manga, abbiamo Bamboo Blade numero 2 e il 67 di Bleach. Poi ci buttiamo su un po' di materiale diverso, abbiamo per la Cosmo, abbiamo preso a campione Wallodrine, il numero 3. Sotto di lui abbiamo Warm World, il viaggio comincia, Warm World Saga, il viaggio comincia. Cartonato anche questo della Renoir, che mi sembrava essere veramente interessante. E sfogliandolo abbiamo proprio questa, questa, questa impressione. Poi, attesissimo Zombillennium, il terzo volume, finalmente, di Arthur Dependt. Veramente lo consiglio a tutti quanti, cercate di recuperare il primo numero. Poi abbiamo tutte le strisce domenicali, nell'annate dal 52 al 55 per i Peanuts. Volume veramente, veramente grosso. Guardate, giriamo così. Poi il secondo cartonatone gigante, per quanto riguarda Miracle Man. Eccolo qui, bombone, bombone. E poi, questa volta, siamo in grado di farvi vedere, oltre a far cascare tutti quanti i pop, la Star Comics, con il settimo numero di Angel Voice, l'undicesimo di Terraformaz, il terzo di Wet Moon, non mi ricordo se si conclude qui, probabilmente, Lesson of Evil, il numero 2, Chopperman, eccolo qua, il primo numero, e poi, Last, no, non è Last, perché c'è un altro sotto, Detective Conan, numero 84, e eccolo qui, Last but not least, Kamisama Kiss, numero 14. Per oggi abbiamo detto tutto quanto, i botti li abbiamo fatti, e ci vediamo, probabilmente, giovedì venerdì. Ciao!